guardate c'è un microfono di chi sarà mai? ci sono degli iniziali FM secondo me è di Freddy Mercury aiuto aiuto Jimbrose si ho rapito Freddy Mercury e non lo vi avrete mai e adesso lo catturerò anche voi perchè segui sempre noi? andiamo a salvarli aiuto presto presto salta potete anche scappare ma Freddy Mercury è mio e le sue canzoni sono mie e adesso diventerò ricco con le sue canzoni dobbiamo scogitare una trappola Shaghi e Scooby si travestono da musicisti e quando Luciferus tenterà di rapirli noi lo cattureremo ma perchè proprio noi? sono Luciferus tenterà di rapirare la Shaghi Shaghi attento Shaghi attento Shaghi attento stai attento sono Luciferus e ti rapero la Shaghi attento attento Shaghi stai bene? si Scooby lasciatemi stare lasciatemi 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 aiuto lasciatemi non riavrete mai Freddy Mercury mai è mio è mio non riavrete mai allora sentirei cantare Shaghi per sempre alleluia 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 aiutelo bene mi ridarò Freddy Mercury mi ridarò Freddy Mercury Shaghi stai bene? si Scooby c'è stato molti rumori su una band o una queen i rumori sono i rumori sono che ci saranno che pensi? dai Freddy cantaci una canzone no voglio cantare io alleluia 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 stai zitto Shaghi io Scooby do alleluia alleluia